Buongiorno mister, come è andata questa settimana di lavoro un po' più breve? Perché si gioca in anticipo di venerdì, come si è comportata la squadra? Molto bene, abbiamo lavorato intensamente anche se è stata una settimana tipica, molto corta, però i ragazzi hanno svolto tutte le sedute con grande determinazione, con grande intensità e soprattutto vedo la voglia di trovare una grande prestazione e cominciare a ottenere un grande risultato. Oltre all'intensità fisica ho visto una particolare concentrazione e determinazione nel voler andare a cercare un risultato importante. Parlando dell'episodio di Perez, cosa vi siete detti? In settimana cosa hai detto al ragazzo e poi sul fatto delle due giornate di squalifica con ricorso d'urgenza dell'Udinese, se pensi sia esagerato? Sulle due giornate mi sembra esagerato, non è un fallo di reazione, un pugno, una testata, un calcio scomposto, in faccia. Voglio dire, due giornate mi sembra esagerato, anche se ho un rosso diretto, però secondo me ho calcato un po' la mano, questo è il mio pensiero. Cosa gli ho detto? L'unica cosa che si poteva fare era cercare magari di prenderlo per la maglia, però in quegli istanti lì lui secondo me era convinto di prenderlo, di raggiungerlo e poi nell'impeto dell'azione, come ho sempre detto, ha fatto questo sgambetto magari un po' vistoso. Con l'impeto della corsa tutto è sembrato un fallaccio pericoloso, però voglio dire, era molto dispiaciuto, chiaramente, soprattutto dispiaciuto per le due giornate. Adesso speriamo che possano essere ridotte a una. Arriva il Monza, che è una delle tre neopromosse, casualmente tutte le tre neopromosse sono a zero punti in classifica. Quanto è una chance da sfruttare questa partita e quanto invece può nascondere insidio un avversario così ferito? Per quanto riguarda la partita, in questi calcoli io non sono abituato a fare queste considerazioni e non le deve fare neanche la squadra, perché sono partite difficili. In questa categoria, l'ho già detto e lo ripeto, non ci sono partite facili o partite perché la neopromossa ha zero punti. Neopromossa ha zero punti, quindi farà una partita di grande determinazione, di grande carica agonistica. C'è un allenatore molto preparato che sicuramente saprà caricare questa partita. Noi dobbiamo avere un approccio devastante, di grande carica agonistica, di grande umiltà, consapevoli sicuramente che possiamo andarcela a giocare. Questo è chiaro, ma l'approccio mentale deve essere un approccio di grande ferocia, di grande cattiveria agonistica, di ringhiare su ogni pallone. E chiaramente sfruttando poi quelle che sono le nostre qualità, che questa squadra l'ha già dimostrato, ce le ha. Quindi grande rispetto per il Monza, grande approccio a questa partita, grande vuol dire con grande umiltà, con grande fame e con la consapevolezza che sicuramente è una partita che noi andiamo per giocarci alla fine in fondo, come siamo andati a Milano e consapevole che possiamo mettere in difficoltà il Monza, questo sì. Anche perché sarà la prima partita di un miniciclo, il primo di questo campionato, con nove giorni, tre partite, quindi poi due in casa. Sarà importante partire bene questo miniciclo? Sì, a me non interessano le altre partite. Io sono abituato alla giornale partita per partita, quindi per me l'obiettivo importante è andare a Monza a fare una grande prestazione prima di tutto. Ci siamo preparati, come ti ho detto prima, seppur in una settimana non standard, ma con grande intensità. Ho visto i ragazzi, come ti dico, molto vogliosi, soprattutto a livello mentale, di andare a conquistare un risultato importante, quindi tutti concentrati solamente su questa partita. Poi dopo Monza prepareremo le altre. Quindi ovviamente da questo tuo pensiero immagino la risposta, di solito si pensa, quando ci sono partite ravvicinate, un po' di cambiamenti, turn over, invece andrà la migliore udinese possibile, quella che tu reputi più in forma per giocare. Assolutamente sì, il ragionamento è conseguenziale, quindi a me interessa solamente il Monza, nella Fiorentina ci penseremo dopo. E quindi, come sempre, l'11 più pronto per questa partita. Ho visto tutti i ragazzi, tutti i ragazzi a scalpi che scalpitano, bene così, voglio essere sempre messo in difficoltà, voglio avere sempre dei dubbi fino alla fine, questo è quello che chiedo loro, l'hanno fatto per questa partita, quindi dentro, senza fare nessun tipo di calcolo, di turn over, mini turn over, conta andare a Monza e conta fare un grande risultato e una grande prestazione. Dico anche che poi con la Fiorentina avremo comunque 4 giorni, quasi 5 giorni di recupero, perché comunque c'è il tempo anche di recuperare. Comunque, quello che conta è la partita di Monza. E questione fascia destra, tu hai detto in conferenza post-salernitana che avresti rifatto la scelta Perez, chiaramente Perez non c'è, e Bosele è una delle alternative, è una delle soluzioni o è la soluzione? È una delle soluzioni, è un giocatore più consono per caratteristiche, ad andare inserirsi lì, però insomma ho provato anche altre soluzioni, vedremo come faccio sempre, insomma oggi abbiamo fatto l'ultimo allenamento, quindi le idee sono chiare su quello che sarà l'undici iniziale. So che non ti piace parlare di moduli, ma con il solito 3-5-2 stai anche pensando a delle variazioni? Anche questo ci penserò fino all'ultimo. Ancora sui singoli, come sta Beto? E se è sempre più vicino il suo possibile debutto da titolare? Sta bene, ha lavorato come vi dissi un po' di tempo fa, secondo me la sua tabella era alla terza partita, si poteva incominciare a pensare a una sua totale disponibilità, totale vuol dire che può iniziare la partita, quindi bene così, anche se sono stato molto molto contento di come si allena e di come ha giocato Isaac Sachseks, perché ha fatto molto bene in campo. Quindi anche lì una soluzione in più con caratteristiche diverse, Beto mi è sembrato pronto anche per iniziare la gara eventualmente. Un altro giocatore che ci ha fatto tra virgolette preoccupare per l'infortunio contro la Salernitana è Biol, ha ricominciato a lavorare col gruppo, come sta lui pure in condizioni di giocare? Biol ha fatto la settimana un po' differenziata, perché aveva questa sensazione ancora di non essere molto lucido, nel senso che non era ancora a posto, insomma dopo questo trauma forte alla testa gli ha lasciato un senso un po' intontito, era un po' intontito, ha fatto fatica un po' a smaltirla, quindi abbiamo preferito anche per sua volontà, perché non era molto convinto, non si sentiva di andare a contrasto, di fare le esercitazioni con la palla, quindi abbiamo preferito farlo lavorare in una maniera differenziata, quindi non è stata una settimana top per lui, ma c'è un motivo a questa forte contusione che ha preso la Salernitana. Al di là delle possibili rotazioni o chance che i giocatori possono cogliere, volevo un tuo giudizio su come sono entrati, almeno a mio avviso molto bene in partita, in diverse fette di gara, sia Lovric che Arslan, insomma sei soddisfatto delle risposte che ti hanno dato contro la Salernitana? Mi sono soddisfatto di tutti quelli che ho utilizzato, non solo di Lovric e di Arslan, se tu mi chiedi su questi due ti dico sì, Lovric ha dimostrato quello che lui sa fare bene, è un giocatore che sa inserirsi, sa tirare, sicuramente ha caratteristiche diverse magari dagli altri centrocampisti, questo inserimento continuo poi sta molto bene fisicamente, Tolgai è un giocatore importante per questa squadra, per l'esperienza, per l'utilità, è entrato molto bene, è un giocatore che sta lavorando duramente, ma anche dal ritiro mi è dispiaciuto per questo infortunio che l'ha dovuto fermare per un po' di tempo, perché aveva iniziato veramente bene, però ha ripreso da dove ha interrotto, parlo soprattutto di spirito, quindi molto dentro la squadra e sta bene fisicamente. Il Monza è una squadra che ha avuto in settimana due o tre infortuni, è un inizio di campionato un po' per tutta la Serie A, molto brutto sotto questo punto di vista, tanti giocatori che si fermano, casualità, secondo te come giudichi questa situazione? Ma sono preparazioni che da un certo punto di vista non devi caricare tanto, quindi questo magari da discapito hanno una prontezza muscolare, magari poi c'è questa motivazione, può essere questa motivazione fisica, di gestione della preparazione e poi secondo me anche questo mercato aperto in continuazione. Un giorno prima non ci sei, poi ci sei, poi arrivano giocatori, magari non hanno una condizione ottimale, però magari sono giocatori che l'allenatore vuole utilizzare perché vengono presi per fare i titolari, non sono pronti. Insomma, un insieme di cose, una situazione un po' atipica che in Italia è un po' che non si vede, anzi penso che non sia mai vista, perché di solito il campionato nostro inizia con la fine di agosto e col mercato praticamente chiuso, quindi con le squadre definite, è un'impostazione di preparazione standard, quindi credo sia un po' questo, però per quanto riguarda noi, tranne qualche infortunio che abbiamo avuto in ritiro, ma più che altro come Aslan e Becao sono traumatici, non sono muscolari, muscolarmente noi abbiamo lavorato bene, stiamo abbastanza bene come condizione fisica e anche una migliore simbiosi tattica tra i ragazzi, la vedo. L'ultimissima, più di qualche tifoso, insomma verrà a Monza a sostenervi, anche perché è la prima volta che si giocherà in serie a questa partita, quindi c'è curiosità, qual è il messaggio che puoi dare ai tifosi in vista di questa partita, in attesa di vederli venerdì all'Adriante? Il messaggio è sempre il solito, io li conosco bene, so che sono molto attaccati alla squadra, hanno grande passione, quindi hanno grande coinvolgimento, si fanno sentire, quindi spero e mi auguro che ci seguano in questa trasferta a Monza e che ci diano tutto il calore necessario per affrontare questa partita.